Stefania Pezzopane continua la battaglia in Commissione Ambiente nella Presidenza della Camera. Nello specifico si chiede di far chiarezza e modifiche sul decreto Genova. Inoltre la domanda che viene spontanea a porsi è qual è la situazione reale dello stato di salute delle autostrade abruzzesi A24 e A25? È inevitabile che il Governo deve prendere in considerazione l'Abruzzo e non bocciare gli emendamenti che sono fondamentali. Il caso autostrade abruzzesi non può non essere preso in considerazione dallo Stato. A parlare per fare più chiarezza e portare avanti questa battaglia è Stefania Pezzopane. La messa in sicurezza delle nostre autostrade è un'urgenza ed è talmente urgente che già nella precedente legislatura abbiamo individuato una norma nel decreto Mezzogiorno e delle somme. Le somme vanno ora anticipate e la forma di anticipazione scelta dal Ministro è devastante. Primo perché ruba i soldi all'Abruzzo, secondo perché è una norma impraticabile che non riuscirà a mettere a disposizione le risorse per il concessionario. E ricordiamo che è solo un'anticipazione perché questi interventi sono a carico del concessionario. Noi siamo perché la norma nel decreto Genova venga semplificata, venga tolta la parola Abruzzo. I soldi ce li deve mettere lo Stato perché l'autostrada è dello Stato. Vabbè, ma ora stanno accicciati abruzzesi. Dicono, allora.